Uno di loro è un vero pizzaiolo, un pizzaiolo acrobatico, però non ve lo dico perché lo dovranno scoprire i nostri concorrenti Sì, vabbè, però dacci un'indicazione, un po' il codice Allora, vi dico che il vero pizzaiolo è talmente bravo ed abile a maneggiare le pizze che ha partecipato ai campionati mondiali di pizza acrobatica Ma scusa, chi è? È il rosso Stefano o il nero Rosario? Allora, pensate solo che in una sola serata riesce a sfornare fino a 300 pizze 300 pizze, non ci credo, non ci credo Sì, non solo, quando c'è lui al forno le pizze arrivano al volo Allora, dai